Benvenuti in un mondo dove la grandezza è regina e il record è la norma. Immagina di afferrare un ortaggio grande come la tua gamba, o un'anguria gigante che potrebbe essere confusa come un'opera d'arte moderna. Stiamo per entrare nel regno delle superfrutta e dei supervegetali, dove le dimensioni non sono solo impressionanti, ma leggendarie. Se pensavi di aver visto il meglio della natura, pensaci di nuovo, perché ciò che ti aspetta è un viaggio straordinario attraverso le dimensioni più imponenti e sorprendenti che la natura ha da offrire. Iniziamo subito. La cipolla più grande del mondo. Immagina di camminare attraverso un giardino incantato, circondato da fiori colorati e profumati, ma tra le meraviglie della natura, ecco spuntare qualcosa di straordinario. Una cipolla così grande da sembrare uscita da un racconto fantastico. Garrett Griffin, un appassionato giardiniere inglese, ha portato alla luce un vero e proprio gigante vegetale. Una cipolla mastodontica che ha lasciato il pubblico e gli esperti a bocca aperta. Con un peso impressionante di quasi 9 chili, questa cipolla potrebbe benissimo entrare nella storia come la più grande mai registrata. Non è un caso che questa epica cipolla abbia fatto la sua comparsa all'Arrogate Autumn Flower Show nel North Yorkshire, dove ogni anno gli ortaggi di dimensioni straordinarie vengono ammirati e valutati. La zucca più grande del mondo. Nel cinquantesimo campionato mondiale di zucche, tenutosi recentemente, il titolo è stato strappato dalle mani dell'italiano Stefano Canturpi da un audace coltivatore del Minnesota. Travis Ganger ha sbalordito gli spettatori con una zucca mastodontica da 1247, superando il record precedente di Stefano di soli 21 chili. Ganger ha dedicato tempo e impegno alla sua passione per l'agricoltura, dimostrando che la dedizione può portare a grandi risultati. Oltre al titolo onorifico di vincitore, si è anche assicurato un premio in denaro di 30.000 dollari. La patata più pesante. Nel 2011, durante il National Gardening Show nel Somerset, Inghilterra, una patata straordinaria ha catturato l'attenzione di tutti gli spettatori. Si trattava della patata coltivata da Peter Glazebrook, la quale ha raggiunto un incredibile peso di 4,98 chili, stabilendo così un nuovo record mondiale. Questo tubero gigante ha suscitato meraviglia e ammirazione tra gli appassionati. L'impresa di coltivare una patata di tale dimensione eccezionale richiede una combinazione di abilità, cura e condizioni di crescita ottimali. Peter Glazebrook, con la sua dedizione e competenza, è riuscito a ottenere questo risultato, dimostrando il suo talento nel campo dell'orticoltura. Il record è stato ufficialmente certificato durante il National Gardening Show, confermando la grandezza della patata di Glazebrook e garantendo il suo posto nella storia del giardinaggio. Il pomodoro più pesante Nel 2016, nella regione di Walla Walla, negli Stati Uniti, Dan Sutherland ha ottenuto un risultato straordinario nel mondo dell'orticoltura. Durante l'agosto di quell'anno, la sua eccezionale produzione agricola ha fatto scalpore. Un pomodoro dalle dimensioni impressionanti, pesante ben 3 chili e 900 grammi, ha conquistato il Guinness World Record come il pomodoro più grande mai coltivato. Prima di andare avanti, se non hai ancora visto il video sulla frutta più costosa al mondo, inserisco ora il link in alto a destra, clicca per vederlo più tardi. E non dimenticarti di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. L'anguria più grande al mondo Nella cittadina di Savierville, in Tennessee, Christopher Kent ha raggiunto nuove vette nella storia degli ortaggi giganti con un'anguria da record. Con un peso di 159 kg, questo frutto mastodontico ha catturato l'immaginazione di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo. L'impresa di Kent è stata una dimostrazione di impegno, dedizione e, soprattutto, della magia che può derivare dall'amore per la terra e la natura. La seconda in classifica è un'anguria italiana, coltivata dall'azienda Bartoli Gabriele e Fabio di Novellara, un'altra anguria gigante da record con un peso di 140 kg. La mela più grande del mondo Nel mondo delle mele esiste un esemplare che sfida ogni aspettativa e stabilisce un record senza precedenti. Parliamo della mela più grande mai registrata, coltivata da Kisato Iwasaki in Giappone nel 2005. Questo frutto gigante ha sorpreso il mondo intero con le sue dimensioni eccezionali, raggiungendo un incredibile peso di 1,849 kg. La sua grandezza lascia senza fiato e spinge a riflettere sulla potenza e la generosità della natura. Se è vero che una mela al giorno toglie il medico di torno, con una così grande potremmo dire addio all'intero ospedale. Limoni giganti Nel 2003, nel villaggio di Kefar Zeytim, è nato un limone dal peso di 5 kg e 265 grammi, guadagnandosi il titolo di limone più grande del mondo. Un prodigio della natura, questo frutto gigante ha impressionato tutti coloro che hanno sentito parlare della sua incredibile dimensione. Tuttavia, come spesso accade, la storia ha preso una nuova piega. Recentemente, il regno dei limoni ha visto emergere nuovi campioni pronti a sfidare il titolo di limone più grande del mondo. Da un lato, Danny Duran, nativa dell'Arizona, ha presentato un limone ancora più pesante, ben 5 kg e 440 grammi. Ma cosa significa possedere un limone di tali proporzioni? Danny Duran ha condiviso il segreto dietro il suo limone gigante, svelando che può produrre fino a 5 litri di limonata, mantenendo comunque lo stesso delizioso sapore di un limone dalle dimensioni più tradizionali. Il cavolo gigante Nel 2012, alla Alaska State Fair, Scott Robb ha presentato un'opera agricola davvero straordinaria, un cavolo rapa da record. Questo mastodontico vegetale, appartenente alla specie brassica oleracea, ha sbalordito gli spettatori con il suo peso impressionante di quasi 63 kg. Scott Robb, con dedizione e impegno, ha coltivato questo gigante vegetale, sfidando le condizioni climatiche estreme dell'Alaska. Ma la sfida più grande è stata il trasporto del cavolo fino alla fiera. Nonostante le difficoltà, il cavolo gigante ha fatto la sua comparsa alla fiera, attirando l'attenzione di tutti i presenti e dimostrando il potenziale agricolo straordinario anche nelle condizioni più avverse. Il cetriolo più pesante del mondo Vincent Jodin, un rinomato produttore gallese, ha conseguito un risultato senza precedenti nell'ambito dell'agricoltura. Ha coltivato un cetriolo da record, certificato ufficialmente dal Guinness World Records. Durante i campionati nazionali di verdure giganti, Jodin ha presentato il suo straordinario cetriolo, che ha fatto storia per le sue dimensioni eccezionali. Con un peso incredibile di 13,4 kg, questo ortaggio gigante ha superato ogni aspettativa, stabilendo un nuovo record mondiale e catturando l'attenzione di agricoltori e appassionati di tutto il mondo. La fragola più pesante del mondo Chahi Ariel, un agricoltore di Israele, ha coltivato la fragola più pesante mai registrata, certificata dal Guinness World Records. Lunga 18 cm, con circonferenza di 34 cm e peso di 289 grammi, questa varietà è il frutto del talento agricolo di Ariel. Attraverso queste incredibili dimensioni, possiamo contemplare il potenziale e la meraviglia della natura, invitandoci a esplorare ulteriormente i suoi segreti e a mantenere viva la nostra curiosità per le straordinarie creazioni che ci circondano. Che sia una zucca mastodontica o un'immensa anguria, queste meraviglie ci ricordano che in un mondo pieno di sorprese c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!